Devi andare sempre da un privato, quindi praticamente in Italia la sanità non è che ti danno tanto spazio, si passano ben poco. Quando tempo addietro sono stato in ospedale non ho risolto, anzi, mi hanno tolto il dente per un altro, quindi vuol dire che io mi sono dovuto spostare per che cosa? Per la negligenza dei nostri signori che non curano questa sanità, cioè praticamente forse di spendere soldi, se andiamo a vedere abbiamo bisogno veramente di cure, forse di spendere i soldi per delle cavolate sarebbe prioritario la sanità, paghiamo, non si sa quante tasse per la sanità e poi andiamo a vedere, ci mancano anche i guanti negli ospedali, i letti, la gente nei corridoi, quando vai in ospedale, cioè questo è tutto riguardo a tutta la sanità, cioè forse di spendere fare, tipo come vedi qua, se le fanno al clinico e apposta mirate, sarebbe meglio farlo anche da noi, pure per una persona che non può. Perché quando le persone vediamo che hanno i denti rovinati e giovani anche, non ce li possono sistemare perché hanno la famiglia, hanno delle spese e non possono prendere prestiti per sistemarsi i denti. Tutto questo dovrebbe cambiare, secondo me, non solo, anche per il fatto delle spese inutili, che mi serve che tu spendi per che ne so, per un autista, per un portaborsa, per tutte queste cose, quando invece serve veramente investirli per i bimbi, per le scuole, tutto quello che riguarda la salute, il benessere.